Prende forma in piazza Mazzini a Chiavari la grande sfera fatta di lettere, simbolo dell'edizione 2019 del Festival della Parola. Sarà sicuramente pronta entro il venerdì 30 maggio, giorno dell'inaugurazione della sesta edizione della Kermesse, che porterà nel Tiguglio scrittori, musicisti e tutti coloro i quali hanno a che fare con la parola. Il flash mob dei ragazzi delle scuole che ricorderanno la caduta del muro di Berlino farà d'apertura ad un ricco calendario di appuntamenti che avranno come filo conduttore il tema del dialogo. Ritengo che veramente oggi ce ne sia un grande bisogno, in qualche modo già l'anno scorso è stata un po' l'anticamera, la Gorà è dove tra l'altro si muove e si adopera il dialogo, quindi un bisogno veramente di dialogare, di restituire una certa dignità, un certo valore, ridimensionare un po' di cose, se possibile molto modestamente nel nostro piccolo. Saranno tre i protagonisti attraverso i quali si snoderanno gli eventi del Festival. Leonardo da Vinci, di cui ricorre il 500esimo anniversario della morte, Lucio Dalla, e l'anniversario della caduta del muro di Berlino. Quest'anno si accentua la tripartizione con la quale sono state suddivise le proposte e le iniziative, con un nuovo spazio, il Dida, riservato in particolare alle scuole. Le scuole, quindi l'interazione tra scuole e festival, come peraltro si vuole che sia, perché il festival è nato con questa vocazione, alle quali quest'anno c'è una novità. Nella novità, ovvero nel contenitore, c'è l'aver regalato loro anche degli eventi nazionali di grande peso, personaggi come Monio Vadia che si spenderanno per esempio nella scuola. Il Fuori Festival, commercianti, quindi il nostro tessuto locale, territoriale, le associazioni locali e territoriali avranno un loro calendario e il festival con i 30 eventi nazionali. Questo proprio per dare una visibilità, restituire ancora di più se possibile una maggiore visibilità e dignità al lavoro svolto.